Una rielezione nel segno della continuità. Michele Borgia, rieletto presidente della Banca di Credito Cooperativo Abruzzese di Cappelle sul Tavo, una grande soddisfazione. Sì, devo riconoscere che siamo andati oltre le più grosse aspettative perché c'è stata l'unanimità dei consensi ed erano presenti 1200 soci, 900 per presenza fisica e 300 per delega, i quali hanno espresso all'unanimità la volontà di continuare a darci fiducia e a supportare i progetti che intendiamo portare avanti. Una rielezione importante nel segno della continuità e come diceva lei con l'unanimità dei consensi questo vuol dire che il presidente uscente Michele Borgia ha lavorato bene. Io mi auguro che sia così, se devo attenermi i numeri sembrerebbe essere questa l'interpretazione. quello che abbiamo cercato di fare è di evitare assolutamente una gestione clientelare del consenso perché avrebbe danneggiato la banca e abbiamo cercato di portare avanti dei progetti che fossero più rivolti al sistema delle imprese, al sistema degli operatori, delle famiglie, dei professionisti che operano nei nostri territori di competenza. I risultati molto positivi, sia per quanto riguarda l'attenzione rivolta a tutti coloro che operano attorno a noi, sia per quanto riguarda i numeri della banca, hanno convinto tutti a confermarci nel ruolo che abbiamo portato avanti in questi anni. Quali sono gli obiettivi per i prossimi anni a questo punto, i punti fondanti del suo programma? Dopo aver messo in sicurezza la banca e averla traghettata fuori dalla crisi ormai con una situazione patrimoniale di liquidità e reddituale veramente positive, adesso dobbiamo pensare allo sviluppo. La fortuna della nostra banca è che insiste su un territorio variegato che va dal mare e quindi con potenzialità commerciali importanti all'interno, quindi con potenzialità produttive altrettanto rilevanti, soprattutto nell'agroalimentare e questo ci consente di diversificare e di avere una prospettiva di crescita e la parola chiave in futuro sarà crescita e sviluppo, non soltanto della banca ma in simbiosi anche dei territori e delle iniziative economiche che potremo supportare.